Noi siamo molto preoccupati di quello che ci accade intorno e ne abbiamo sicuramente ragione. Lavoro, famiglia, responsabilità, tutte queste cose fatalmente attraggono la nostra attenzione. Istintivamente ci tengono avvinte perché fanno parte del nostro mondo esterno. Un mondo che sperimentiamo ogni minuto che passa. Ed è giusto che noi ci preoccupiamo di tutto questo. Nessuno può negare che tutto ciò deve far parte della nostra più attenta considerazione. Eppure, se ci concentriamo sulle priorità, dovremmo riconoscere che lo spirituale dovrebbe avere un primato sul resto. E questo, si badi bene, non vuol dire avere poca cura di lavoro, famiglia o responsabilità, ma saperle guardare con un occhio spirituale. In una omelia del 1959, Divo Barzotti fra l'altro diceva Se noi non viviamo la pace è perché noi ancora viviamo fuori, mentre egli è dentro. Sta a noi vivere ora la vita del cielo. Non sta più a Dio, perché Dio già si è dato. Se non viviamo già in paradiso, la colpa non è delle cose, o tantomeno la colpa è di Dio. La colpa è soltanto nostra che ancora viviamo al di fuori. Questo diceva Don Divo Barzotti. Ed ecco, questo richiamo del grande mistico a vivere la vita del cielo mi sembra molto importante. Non significa non avere cura di quello che ci è dato nel mondo, ma significa, come ci insegnava il grande pensatore brasiliano Plinio Correa d'Olivera, avere uno sguardo sacrale, saper guardare tutto con occhi diversi. Divo Barzotti fu uomo di grande spiritualità e proprio per questo molto concreto. Egli sapeva che la vera penetrazione dell'essenza della realtà, quella del mistico, passa per la vita dello spirito. Cioè la realtà acquista più spessore se si è vista con occhi purificati da uno sguardo spirituale. In fondo, padre Barzotti non faceva altro che riprendere Sant'Agostino, che ci insegnava che Dio ci è più intimo di noi stessi. Gesù ci insegnava che dobbiamo adorare Dio in spirito e verità. Le due cose non sono scisse, vita spirituale e verità delle cose, la realtà. Khalil Gibran diceva che credere è una bella cosa, ma mettere in atto le cose in cui si crede è una prova di forza. Sono molti coloro che parlano come il fragore del mare, ma la loro vita è poco profonda e stagnante come una putrida palude. Sono molti coloro che levano il capo al di sopra delle cime delle montagne, ma il loro spirito rimane addormentato nell'oscurità delle caverne. Questa era la citazione di Khalil Gibran. Ecco, cerchiamo di fare in modo di avere uno sguardo spirituale sulla realtà che ci circonda e tutto ci sembrerà diverso.